Buongiorno a tutti. Buongiorno signora d'Argista, tutto bene? Tutto bene? Ma fammi che ci vuoi fare il bacio, ci dovete rimanere pure te. Eh, ora non è chiaro che ci vuoi fare. Ci vuoi vedere un po'. Eccola, guarda quanto è bello. E' bello, non è una macella. No, è un po' poco. Scuia da me, scuia da me. Vedi che è andata per me, che è andata per Dio. Sì. Oh, dimmi una cosa, ma quando ero ancora più giovanotto, noi che adesso siamo, diciamo, sei ancora giovanotto, però quando ero ancora più giovanotto, tra alcuni mi ero fatto l'umore ecco. qua veneva giunga, ma io ero un solo pezzo, ma non l'umore che veneva. Ma ecco si trattava le preti. Si trattava le preti che non ci andava. Quella ferma. Quella ferma. Vedeva una cosa, ci veneva la gente da l'umore, diceva. Poi si mettevano soltanto le preti. L'umbrello. Eh, l'umbrello. E' da quelle tende che prima una volta si mettevano. Eh, una volta che chiedeva. Quello che aveva l'umbrillo. Eh. Mettavo l'umbrillacolo. E lo copreva tante cose. Tu, l'umbrillo, l'umbrillo non ha coperto. Ha coperto, tutte cose. Però, veneva in inglesi. In inglesi. Veneva da, 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 da... Non l'acqua a rameo. Ahahahah. E rimenevano tutti in piaccia. D'acqua a rameo. E se lo aveva e che è morto. E che, mettavano l'umbrillo. Allora, ah. Allora, ah. Allora, ah. Allora, all'isdang. Se mettava, ah ah. E le cazzine, che le cazzine, un po' che la camicia mi ha dato. C'era, c'era, c'era. C'era, c'era, c'era. L'acqua a rameo. L'acqua a rameo. E facevano le robone. Allora, ma che ci voleva? Quelli già le morirono con azzurro. L'acqua a rameo. Ahahahah. Diventavano ancora più azzurri, no? Ahahahah. A presto si portavano pure l'asano, una bici. Eh, la bici. S'arravava il patrone. Eh, c'era. S'arravava l'asano e il patrone. S'arravava l'asano e il patrone. Sì. Eh, dimmi una cosa, signora Taggi. Eh? Ma, eh. S'arravava l'asano e il patrone. Che faccio? Non c'era il costume, lo topless. Eh, no? Non c'era solo l'acqua. Dopo l'acqua a rameo era pur salata, non c'era più l'asano. Ma non c'era la veste lunga. Eh, anche la veste lunga. Eh, sì. e lo facciavano da poco. Eh, eh. Un'acqua a rameo è per chiuso. E? Un'acqua a rameo. E ci portavano buona colquillo. Eh, no, non così così. La coperta. Non c'era la coperta, proprio la fosse. Eh? Eh? E li mettavano pure in qualche caso. Eh, lo portavano a qualche cosa. Eh, lo portavano. Le fagliarevo. L'acqua a rameo, la fagliarevo. Eh, lo portavano ciò? Non ti preoccupo, ma qua è una cosa bella, non ti preoccupo, dimmi una cosa, perché allora facevano il bagno, il padrone era tutto in giro E quasi, quasi, e lo tenevano nella capazza, e quello tenevano che noi lo vendiamo, ma già diciamo, conta, 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 pure perché non sapevano una tua tante No, ma oltre al quale si doveva una strugola, mezzo all'acqua si doveva una polizia, doveva un paio urtice, un pochino acqua Vabbè, all'acqua erano così Perché i salvanesi non c'erano un popolo di Picharul Ah no, conta, conta l'acqua, erano con la gandarella, vabbè all'acqua Stavano le settee, l'acqua, erano con la settee, l'acqua, erano con l'acqua, erano con l'acqua Stavano la prima, la seconda settee Stavano l'acqua, erano con l'acqua, non c'erano con l'acqua E tu, come vuoi, si vedi, perché i salvanesi, che non sapevano tanto, per la paio, si attaccavano la capazza all'acqua Attaccavano la capazza, dà la russa, lo trovi Allora, arrivo, 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 ci sono altrimenti, allora ha ridurla Per due ore che i pali non si lavorano Ma che? Dommi adesso, ecco, stiamo contro il sole, vediamo se si va Stiamo a vedere lungomare, non teniamo due chilometri di lungomare, eccetera eccetera Però prima della lungomare, ecco, non ci stattava Ah, niente, stattava gli ingi Che brava! Le inge, fino a essere medici stavano, stavano le picchie di rana, si avevano la spugliera all'arretta, si mettevano la mutandina, ma rimanevano in casa, facevano il bagnetto, arriva la calza e su quevano qua. Mi arriva e arriva le inge, la spugliera. Un'altra cosa che la signora, forse se ne vuole, perché non conoscevano, è vero signora dà fastidio. Te lo ricordi a dove cominciava l'umore? La sabbia? La sabbia? La sabbia? Cominciava vicino alla Via Nuova, alla litorale. Alla città? Alla città, naturalmente. I gali erano tutte sabbie, per me. Erano tutte sabbie, fino a vita. Ci mettevano le citrone, le melione, ci mettevano le pommadure, le tigre, capito? E erano sabbiose. Però i salvanesi, negaci, mi ne vede tanto. Scusate. Ma l'umore... Le salvanese... Le salvanese... Le salvanese... Le salvanese... Le salvanese... Non hanno mai considerate l'umore. L'umore, no, no. Perché i senzalvesi non ebbero, detto in italiano, l'intuito delle frastire. Cioè... Le frastire... Le frastire... Cioè... Le frastire... Le salvanese... Cioè... Le salvanese... Perché la litorania... Sarà... No, non credo. Perché la litorania... Sì... 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 All'ora... Quello ci stattava... Avete nascito? Tutto il lungomare... Tutto il lungomare... Quello ci stattava la sopra... Ma che... Non ha detto mai... E la via l'umore... Te l'ha racconto... Di me? Tutte fragile... Fragile? Sì... Se io... Sì... Se io... Sì... 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 Arriva a Peta... Ma che stava... La vedete la stazione... Sì... E vedete nascere... Tutti i ciani di rio... Eh... La vedete nascere... Quello di modi via Grascieta... Tutti i ciani di rio... E poi... Quello... E' un ciani di rio... Gazzi... Si ricorda... L'argi... Che io... Che io... Che io... Che l'aveva... Le rio... Stava con il congelistico... Fratt... Non dico chiamano l'umore... A Peta... Che io... Se stava... Si portava... Si portava... Si portava... La cusarelle... Non le tenava... Si tenava... No... Per niente... Quelli che erano ricchi... Tenavano 3... Allora... Carcava... Il quattro... Era te... Alumore... Che manceva un po' sopra... Eh... Si... E portava l'umore... l'aria umido si diceva l'aria umido ecco l'aria umido la farm separava la zona dove il mondo nero e quindi l'Abruzzo ma grazie per questa tua testimonianza non ci siamo incontri prima che mi sei detto che ti stiva a fare una camionetta WASH WASH allora ora WASH WASH grazie 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 ciao ciao ciao